Smile 2, l'hai vista e sei rimasto col dubbio di dove parta l'allucinazione? Il regista Park e Flynn ha dichiarato di voler sprofondare gli spettatori nello stesso stato confusionale di Sky Riley, rendendoli incapaci di distinguere realtà e incubo ad occhi aperti. Eppure, c'è un momento in cui l'allucinazione inizia. Cerchiamo di capire qual è, partendo dalla fine. L'omicidio della madre nella clinica psichiatrica immaginato da Sky, visto che vediamo la donna nel concerto finale. Anche il misterioso infermiere che la contatta e le propone un piano per battere il demone è solo nella mente di Sky. La siringa non esiste e probabilmente nemmeno la cella frigorifera. Gemma, la migliore amica di Sky, si presenta alla sua porta e la segue nelle sue disavventure. Ma dalla chiamata in macchina, mentre Sky sta andando alla cella frigorifera, vediamo che è stato anche questo tutto nella sua testa. Il gobo che non funziona al concerto di beneficenza è infine sempre indice della perdita di contatto con la realtà della protagonista. Ma veniamo invece alla scena che secondo me segna il punto di inizio dell'incubo ad occhi aperti. Quella in cui Sky rifiuta uno degli outfit perché in trasparenza si intravede la sua cicatrice. Perché, dite voi? Indossare quello stesso vestito nella sua letale performance finale rivela invece subito che non è più in sé. Secondo te invece quando inizia l'allucinazione? Classico